Ciao a tutti e tutti, benvenuti in questo video, oggi come abbiamo permesso c'è la gita nella perugina e come vedete c'è 15 di me, sono le 7, 4, ci siamo sguidate alle 5 e un quarto e siamo portati giù con pezzi. Ok, come vedete qui c'è la mia amica Claudia, potete vedere, ci sta anche Sofia però non si vuole far vedere. Ok, secondo me tutto è stretto, come vedete questo. Ok, oggi vi farò vedere tutti i macchinari della perugina, perché ci avremo tipo un ingresso, noi passeremo sopra, qua ci sta tipo trasparente. Poi ci faranno, poi ci faranno mangiare i dolci, che buono, mangiamo tutto cioccolato e un ingresso. Vero Claudia, e poi andremo anche alla città di Perugia e ci lasceranno sicuro da soli e così andremo un po' tra i negozi. Io sicuro, Claudia, sai dove andremo? Su quelli edrucco. Ok, 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 io, allora siccome avete visto il mio video, se è caldo e vale, mi perdono e vale, ok, quel video è molto difettoso, perché l'ho fatto dal computer. E quindi lo devo rifare, lo devo fare, lo devi fare, tipo, lo devi mettere, o lo metti dal telefono. Eh sì, però non so come si fa. Vabbè, ok. Le canzioni mi dico, metti dal telefono. Sì, sì, non so. Allora, lo devo rifare. Ho detto fai col dito così. Ok, quindi lo rifaccio col video. Non so quando, non so dove, dove lo so. Questi saranno tutti i pezzi. Sì, infatti che saranno tutti i pezzi. Come vedete? Come vi ho promesso, anche se è lungo, non me ne frega, lo studio lo stesso. Anche se dura 24 ore, non me ne frega niente. Lo pubblico. Ok, arriveremo verso la Perugina, però non c'è il salto. Io non credo che faremo questi, perché non giova niente due ore e mezzo. No, andiamo prima alla Perugina, ma alla Perugina? No, alla Perugina, perché alle nove e mezzo ci sarà l'isica. Ok, alle nove e mezzo, come mi ha detto Claudia, c'è la vista della Perugina, quindi andremo subito alla Perugina. E nel viaggio della città. Il viaggio. Se c'erano levi era più figo, però... Sì, per questo che ci volevo, io voglio subito. Niente. Niente. Ci vediamo alle... Ci vediamo alle nove. Alle nove. Oppure alle sorte, non so se... Perché siccome adesso sono le sette dieci, mi sa... Otto, nove, otto e dieci. Nove, otto e dieci. Ci mancano ancora due ore. Ce la posteremo fare. Se la posteremo fare. Adesso io sto come... Tu stai come... Io sto... Vabbè, ti metti il pubblico, io ci stai. Vabbè, ci faremo un musicodipo e niente. Cioè, adoro. Dopo mi metterò la foto della perugina perché non si è visto niente di niente. Ok, ora stiamo aspettando di entrare e ci vediamo là. Ciao. Ok, si paga 5 euro per entrare per le scuole. E il pullman non ce l'ha portato la scuola e... E va benissimo. Pronti, partenza, via. Si va a dormire, monti. Dopo 20 minuti ce l'abbiamo fatta entrare. Siamo dentro la perugina. Oddio, mi sta venendo l'acquolina. Ok, non riesco a farvi vedere la perugina, aspetta. Ok, spero che si veda. Grazie. Grazie. Siamo usciti dalla perugina. Claudia, saluta. Non vuole salutare. Massimo, saluta. Non siamo fatto... Allora, non ho fatto i... i video, però ho fatto delle foto, perché non si poteva. Manco alla fabbrica non ho potuto fare foto, perché era... Non hai visto che non volevi farlo più? Sto qua, scusa. Non ho potuto fare niente. Non ho potuto fare niente. Ok, ora dovremmo andare a... Ok, ora dovremmo andare a città... Va bene, ci ha detto ora il professore, anche il padre della mia amica, che vedete sempre. Signori e signori, ha riperto a stare al seminario e ha fatto video. Sento! Sta facendo altri video, non ci trovare! Vedi? Vabbè dai, signori e signori, sono dentro una persona di 17 iscritti. Sto dicendo aiuto! Oh, stai zitto! Tanto lo togli! Stai zitto! No, non lo togli. Ok, e ora... Faremo... Ora andremo su una macchinina che ci porterà al centro, che è una figata assurda. È bellissimo. Non lo smetti! No, non me lo aspetto! Perché non lo togli? Ok, e ciao! Questa galleria mi fa tanto paura. La salita! C'è una salita! Sì! No, la salita no! Le montagne russe! Oddio! Io non vedo niente! Non era così tanto brutta questa salita! Adesso acceleriamo, eh ragazzi! Oddio! Oddio! Ok, ora ripartiamo. Da! Do stiamo? A Malonata? A Malonata! A Malonata! Sono a Malonata! Siamo a Malonata! Stavo facendo una salita! Mi fa un'impressione, un po' questa salita! Ecco la discesa! No, la discesa pure! La discesa! Io passo in tavola, devo scarmere sul polio! Ok, ora siamo a casa indrucciati! Bello! No! 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 A Cupa! A Cupa! Saluta Massimo! Io mi vuoi bere! Bellissima! E bene, bene! Va vai! Eh, però se puoi fare un po' ma... Va bene, ci vediamo! A Cupa! Lo sai che ti senti? Io! Io! Io stavo andando la monturata! Uh! Ok, ora a Cupa! Non scendete, non scendete! Ora... Va bene! Sara? Non stai colpire! Non stai colpire! Non stai colpire! Ok, allora, ora andremo fare un giro! Sì, non stai colpire! No, le due! Sono le due e poi dovremmo ripartire! Ok, ora andremo nel negozio Subbuzz, che è il mio negozio, ma è comunque un assoluto! Non stai colpire, non stai colpire, non stai colpire, non stai colpire, non stai colpire! Non stai colpire, non stai colpire! È bellissimo oggi! Ma è tutto bello! Non si vede niente Vai Ti si vede tutto Vai Ok Ora siamo a... dove? Spiello 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 Lo sa Laura Ok stiamo andando al centro storico E... E niente Ci vediamo la Wow Ok lei è Laura Una mia compagna di classica Ciao Volevo apparire in questo video Ok guarda 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 Gloria Vieni la mena 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 Ma è una memoria Però non devi vivere Tu diventa anche una youtuber Iscrivetevi al mio canale Come si chiama il tuo canale? Si chiama... Claudia C'è anche Claudia C'è anche Claudia Ciccio Oscar E ci sono io No Laura non merda Io devo farlo Quanto la dove Guardate bene le indicazioni, qua ha un quarto le cinque, io faccio merende ragazzi, ok stiamo cercando un bar, non ce n'è manco uno, aspetta non ti vedi, vieni più avanti, ok ora voglio fare una bella proposta, chi mi sostiene in questo video metta un pollice in su, perché ci sono dei miei amici in cui sono i miei amici che dicono che io non mi posso fare, non posso essere una youtuber, beh se voi credete che io possa fare la youtuber, mettete un pollice in su questo video, non è finito il video non vi preoccupate, ok abbiamo chiesto un po' di informazioni che noi siamo come dei bambini dispersi, in realtà lo siamo, non ci siamo mai venuti qui, ok ora andremo in un bar, faremo merenda, io prenderò l'acqua e tutto quanto. Ok ora torneremo verso il pullman, cioè per ritornare a casa nella nostra bella e amata Marche, perché qua lo stiamo, in Umbria, e siamo, ah porno, ecco perché gli sei detto al bar e siamo qui, siamo qui, siamo qui, ecco noi siamo state là, noi là siamo state, laggiù siamo state, mi ricordo per Perugia, Perugia, che cos'è? Scapologo, scapologo dei numeri, e infatti, ok ora andremo verso il pullman, come vi ho detto, Sofia saluta, ok, e, non so come far, giù a nebi, quando i ragazzi c'erano, ah madonna tutte marchigiane, eh, io volevo dire certo, io ero con il gapino adesso che stavo nelle macchie, prova, eh, tutto disceso ora facciamo, sono sicuramente le casca, ecco io tra poco come stavo, le scale, molto easy, che sto dicendo molto easy, invece, se canti o balli perdi, io devo rifare la challenge, mi è venuto male, l'illuminata da dio io sono io sono l'illuminata da dio l'illuminata da dio